Stamattina ho mandato un quesito molto generico alla Corte dei Conti, è chiaro che siamo in una situazione di assoluto stallo anche perché da un punto di vista normativo ha un no del dirigente preposto che non è isolato rispetto anche al giudizio di alcuni amministratori con competenze giuridiche su un rischio reale di esposizione alla Corte dei Conti. Credo che sia una situazionista, in questo momento quindi abbiamo da affrontare l'emergenza anzitutto degli uffici e poi abbiamo anche da pensare come poter dare un futuro comunque a questi precari, stiamo lavorando su questo. Loro dicono che non serve il parere alla Corte dei Conti? Perché non firmano loro. Queste le parole, solo 24 ore fa, rilasciate ai nostri microfoni dal sindaco dell'Aquila Massimo Cialente sulla spinosa vicenda degli oltre 50 precari del Comune a casa dal 1 ottobre per i mancati rinnovi dei contratti. Come è noto, tra pareri negati sulle proroghe, interpelle ai ministeri e proteste, i lavoratori hanno occupato nuovamente gli uffici del primo cittadino, la situazione è esplosa in tutta la sua gravità, con persone senza lavoro e rischio paralisi degli uffici. A fare un po' di chiarezza però ci ha pensato la sottosegretaria con delega alla ricostruzione, Paola De Micheli, che da un lato ha messo all'angolo sindaco dirigenti e dall'altro stigmatizzato il paradossale impasse che si è creato negli uffici del capoluogo. Le norme nazionali consentono di procedere con le proroghe, ha affermato senza mezzi termini la sottosegretaria alla RAI. Se ciò non accade, è un problema interno al Comune dell'Aquila. Affermazioni che in buona sostanza ricalcano quelle della senatrice PD Stefania Pezzopane, secondo la quale si è perso fin troppo tempo per procedere a rinnovi. Ma la De Micheli va giù pesante nei confronti del sindaco, che non avrebbe nascosto critiche nei confronti del MEF, che avrebbe messo nero su bianco su una mail come non esistono le coperture finanziarie per le proroghe. Credo, ha aggiunto la sottosegretaria, che le affermazioni del sindaco dell'Aquila siano gravissime e prive di fondamento, perché il Ministero dell'Economia è stato il più grande alleato della ricostruzione, trasparente ed efficiente. Qualcosa, insomma, tra Comune e Governo sembra essersi rotto, con i lavoratori in attesa di tornare al proprio posto, stremmati da uno scarico a barile ed un rimparo di responsabilità ormai quasi cafchiano. Grazie